Bentornati, proseguiamo la lettura e l'analisi dei frammenti di Livio Andronico e oggi completeremo tutto il ciclo. Eravamo arrivati qui, oggi riprendiamo con un altro frammento molto molto celebre, famoso, conosciuto da molti. Ibi manen sedeto, donicum videbis, mecar pentoventem domum venisse. Ovviamente il metro usato è sempre il Saturnio. Siedi qui e aspetta finché immaginerai che io andando col cocchio sia giunta a casa. Il frammento 17. Nell'Odissea 6, 295-97 possiamo invece leggere lì sedendo Aspetta un po' di tempo fin tanto che noi entriamo in città e arriviamo alla casa di mio padre. Quando poi immagini che siamo giunti a casa eccetera eccetera e poi va avanti. Ecco, in questo caso parlare è Nausicaa, la figlia del re Alcino, la quale sta appunto parlando con Odisseo, con Ulisse quindi, e si stanno accordando sulla modalità di rientrare in casa, quindi di ritornare alla reggia. E questo perché? Perché naturalmente Nausicaa desidera evitare le maldicenze, le malelingue. sa perfettamente quanto siano pettegoli alcuni o la maggioranza insomma dei suoi sudditi e non bisogna assolutamente fomentare le malelingue, le maldicenze in sostanza. Perché se il popolo vede rientrare la sua futura regina, quindi la principessa, con un uomo, chiaramente tutti inizieranno a parlarle alle spalle e cercare di capire chi sia quest'uomo, probabilmente dicono il suo futuro marito, forse uno straniero venuto da lontano proprio per chiedere la sua mano e quindi per sposarla. Ecco, volendo evitare tutte queste dicerie, si accorda con Ulisse affinché lui rientri più tardi rispetto a lei. Quindi non deve andarle dietro subito, non si deve sedere appunto sul suo carretto, ma deve aspettare finché lei non sia rientrata in città e tornata appunto a casa. Interessante poi anche l'uso di moltissime parole di cui adesso ci occupiamo, perché come sempre prima contestualizziamo il frammento e poi ne parliamo anche da un punto di vista invece così più linguistico. Ecco, interessante intanto l'uso che fa Livio Andronico di quel carpento. Se avete visto, leggendo, ve l'ho ovviamente evidenziato in rosso, a un certo punto Livio Andronico precisa la situazione, quindi traduce, però utilizzando un elemento romano, questo carpento. Infatti, carpentum in latino, che cos'era? Era una vettura a due ruote molto comune a Roma, cioè quando un lettore oppure un ascoltatore romano, latino, avesse appunto sentito insomma questa storia o avesse letto nel momento in cui l'avesse letta o sentita, ecco che si sarebbe subito figurato davanti un'immagine precisa, cioè quella vettura a cui lui era abituato, che era abituato a vedere tutti i giorni, perché era una cosa comune insomma a Roma. Quindi attenzione, evidenziate bene, soprattutto se state studiando queste cose, il termine carpento proprio perché, ecco, Livio Andronico non si limita quindi a romanizzare e a introdurre elementi latini nel testo greco soltanto per quanto riguarda le persone oppure le divinità, ma addirittura per quanto riguarda gli oggetti, come in questo caso, cioè questa secondo me è una cosa molto importante da sottolineare, quindi non si limita ad inserire personaggi di vario tipo romani, ma addirittura, ecco, degli elementi, come posso dire, inanimati, cioè degli oggetti, ecco, come in questo caso il carpentum, una vettura addirittura, quindi una cosa completamente diversa in sostanza. Ecco, poi se avete notato il testo di Livio Andronico è anche molto più semplice e anche un po' più stringato, insomma, rispetto all'originale greco, il greco è un po' più dettagliato, un po' più preciso, qui invece è molto più semplice, insomma, l'abbiamo letto, ma Livio Andronico poi aggiunge un elemento che nel testo greco non c'è e infatti questi due versi sono stati sostanzialmente modificati perché, se avete visto, introduce, come stavo dicendo un secondo fa, un elemento in più, cioè introduce il verbo videre, questo videbis, quindi tu vedrai, questo è un futuro semplice, seconda persona singolare, ovviamente viene dal verbo videre, ecco che questo verbo crea una complicazione sentimentale perché Nausicaa chiede a Ulisse non soltanto di attendere che lei sia rientrata prima poi di muoversi, ma anche di videre, cioè di vedere, di immaginare, di aspettare, ma anche di osservare, quindi una cosa in più, quindi c'è questa complicazione anche dal punto di vista sentimentale, viene chiesta una cosa in più ad Ulisse. Ecco, invece, se avete notato, magari torno indietro, però questo domum venisse, questa espressione che utilizza appunto Livio Andronico, sostituisce un intero verso, tutto il verso 296 dell'originale greco, infatti per quello vi ho detto notate anche la traduzione del testo originale perché se confrontate, vedete, qui abbiamo un verso, quindi abbiamo di più, quindi una sintesi, ecco, è più stringato in sostanza, viene sostituito con un'espressione molto più semplice, domum venisse e con questo lui chiude la questione, quindi interessante, lì, quindi no, proprio lì, qui, rimanente seduto, quindi starai seduto qui, rimarrai seduto qui, finché, fin tanto che questo donicum è proprio una congiunzione, vedete, finché tu vedrai me essere tornata a casa con il cocchio, appunto, viaggiando, essendo portata, insomma, con il cocchio, andando con questa vettura, finché appunto sarò tornata a casa, cioè in maniera molto letterale, ecco, poco artistica, questa sarebbe la traduzione, questo sarebbe il senso, infatti poi vi ho elencato anche tutti i vari termini, ventem, participio di vejo, viaggiare, andare su un mezzo di trasporto, essere portato, a valore anche passivo, poi c'è quel sedeto, che è ovviamente un imperativo futuro alla seconda persona singolare, quindi qui tu starai seduto qui, rimarrai seduto qui, aspettando, quindi no, finché mi avrai visto, insomma, tornare a casa, e quel donicum, appunto, è una congiunzione, ecco, ve li ho tutti elencati qui, ma la cosa che mi interessava di più era proprio sottolineare non soltanto la sintesi, la capacità anche di sintetizzare da parte, appunto, di Livio Andronico, ma soprattutto il fatto di inserire anche oggetti romani e non soltanto persone, quindi reputo questo frammento veramente molto interessante. Passiamo ad un altro, anche questo molto famoso, è il frammento numero 20, Anche qua, se avete sentito leggendo, ci sono delle alliterazioni, c'è comunque anche da un punto di vista fonico la volontà di evidenziare la drammaticità della scena, quindi c'è un aumento anche del pathos, un'intensificazione del pathos. Leggiamo prima il testo originale greco e poi lo confrontiamo con quello di Livio Andronico. Prima vediamo quello di Omero, Odissea 8, 138, 139, perché io dico che non c'è nulla di peggio del mare per abbattere l'uomo, anche se questi si è assai forte. È abbastanza semplice, ecco, sembra quasi anche una sorta, neanche una sentenza, una riflessione molto semplice, si ribadisce un'ovietà, in sostanza un qualcosa di abbastanza ovvio, normale, non c'è niente di peggio del mare, dice il mare è molto infido, soprattutto è molto anche pericoloso, anche l'uomo più forte può soccombere in mare, quindi si limita a evidenziare qualcosa di abbastanza banale. Livio Andronico invece modifica notevolmente il testo greco, anche in questo caso naturalmente il senso è quello, però se notate adesso si sentirà un pathos molto molto maggiore, perché nulla riesce a fiaccare la natura umana più del mare imburrasca, anche colui che a grande forza presto lo annienteranno i flutti che non danno scampo. Quindi sentite qui una maggiore ecodrammaticità, insomma, sembra che l'argomento di cui si sta parlando sia molto molto ecco più grave rispetto all'altro testo, cioè non sembrano esattamente gli stessi testi, gli stessi frammenti assolutamente, no. Questo è Livio Andronico, interessante, ecco, se avete sentito anche quel importune unde, sentite un po' anche il pathos evidenziato fonicamente, chi sta parlando, dove siamo, che cosa è successo? Allora, questo che parla è il figlio di Alcino, siamo sempre sull'isola dei Feaci, ed è rivolto appunto ai giovani Feaci, ecco, e gli sta commentando l'aspetto di Odisseo che è scampato al naufragio, quindi quando lo vedono, quando Odisseo arriva alla reggia, quindi praticamente qui siamo in un punto successivo rispetto al frammento precedente che abbiamo letto, quando Odisseo stava parlando con Nausicaa. Ecco, vi faccio notare subito questo nullum humanum, perché anche qui, no, non c'è nulla di peggio, dice, per il genere umano, no, eccetera, eccetera, ecco, quel nullum humanum, interessante, sono due aggettivi neutri che qui vengono sostantivati, che quindi ovviamente sono collegati, poi notate quel quamde, ecco, è una forma rafforzata di quam che è presente, che troveremo anche in Ennio e in Lucrezio. E poi, naturalmente, ecco, sì, questo quamde è sempre un avverbio che significa come, quanto, davvero, di quanto, proprio, insomma, poi dipende dalla traduzione, però, ecco, è proprio questo il senso. E poi, interessante, ecco, dobbiamo evidenziare altri due termini, quel mare, sevom e poi il topper. Allora, mare, sevom, interessante perché non dovete essere tratti in inganno, questo sevom non è sevum con la U e quindi collegato magari a nullum humanum, magari uno potrebbe anche essere indotto a pensarlo, forse una forma arcaica, no, è un arcaismo, ma non è riferito a nullum humanum, questo sevom è riferito al mare, per quello che ve li ho evidenziati, sarebbe mare, sevo, senza la M. Perché? Perché nel corso del tempo poi la M cadrà. Come succederà poi anche per il latino, quello più tardo, soprattutto il latino medievale, nel corso del tempo, questo l'abbiamo già visto, per esempio, con la letteratura italiana medievale, partendo da quella francese, insomma, che nel corso del tempo la M finale, di solito la consonante finale, soprattutto quando è lì così, soprattutto nel caso della M, cade, soprattutto nei casi accusativi, ecco, ma non solo, però ecco lì, di solito cade, ecco, la consonante finale, diciamo, cade nel tempo, quindi da sevom diventa sevo, quindi mare, sevo, ed è riferito proprio a quello, comunque anche qui il senso, la traduzione del testo ce lo fa capire, quindi è un ablativo arcaico, in sostanza, ecco, e che poi si evolverà in sevo, senza più la M, quindi qui è ancora un arcaismo, questo era, appunto, proprio per evidenziare questa cosa, che è un arcaismo, significa, appunto, indomito, feroce, selvaggio, eccetera, eccetera. E poi c'è questo topper, è un avverbio di tempo, ovviamente è un uso arcaico, ecco, di questo avverbio usato, presente anche in nevio, in ennio, in pacuvio, e come si forma il termine topper? Dal tema pronominale to, appunto istud, che viene da istod, eccolo qua, quindi il to, più la particella temporale per, quindi to più il per, vedete anche tra parentesi, ve ne ho messo delle altre, sem per, parum per, ecco, e quindi è, ripeto, un avverbio di tempo, e se ne fa, appunto, un uso qui arcaico, quindi molto interessante anche questo frammento, poi, naturalmente, molto bello, insomma, anche dal punto di vista patetico, dal punto di vista, appunto, del pathos, no, della drammaticità, in sostanza, bello anche il testo, così, da leggere, molto interessante, antevire, scui, sunt, magne, quindi questi grandi uomini, che però possono essere completamente travolti da queste onde importune. Ecco, cambiamo argomento, andiamo al frammento 38, quindi qua adesso sono andato un po' avanti, poi torneremo indietro, ma l'ordine non importa. Neque tamen te oblitusum, laertie noster, ma io, non ti ho scordato, caro figlio, di laerte, laertie noster, ecco, non ti ho scordato, caro figlio, ho evidenziato subito te e noster, perché nel testo di Livio Andronico, come avete sentito, c'è una forte, ecco, vicinanza, perché viene usata la seconda persona singolare, cioè qui ci si rivolge dando del tu, quindi è chiaro che c'è, come posso dire, una sorta di informalità, cioè le due persone che parlano sono molto vicine, si sentono vicine e infatti chi sta parlando è il porcaro Eumeo, che sta parlando ad Odisseo, che però ovviamente non viene riconosciuto, perché Odisseo è travestito da mendicante, è stato invecchiato da Atena, nessuno lo deve riconoscere, proprio per avere successo e poter sconfiggere, eliminare i proci. Ecco, quindi il porcaro sta parlando con Odisseo, un fedele servitore appunto del proprio re, nel testo originale greco si legge, mi prende il rimpianto di Odisseo, che non c'è più, quindi notate perché in Omero, ecco che, quindi nell'Odissea 14, 144, il porcaro Eumeo utilizza la terza persona parlando di Odisseo, perché dice, mi prende il rimpianto di Odisseo, che non c'è più, il quale, cioè lui, non c'è più, quindi ci si riferisce a lui in terza persona, cosa che cade invece in Livio Andronico, perché in Livio Andronico, ecco che Eumeo parla Odisseo in seconda persona, quindi il suo rimpianto lo induce, lo spinge a rievocare sia una persona lontana che però il suo interlocutore, quindi per fare anche un po' percepire al lettore di questa vicinanza invece si usa anche la seconda persona e poi è chiaro che il te e il noster accentuino di più il pathos e la drammaticità della scena, mi sembra logico, ecco, però ricordiamoci questa cosa, quindi è un esempio anche questo di traduzione artistica. In Omero invece c'è anche l'ironia, perché? Perché Odisseo è proprio davanti a lui, quindi quando dice, no, ah rimpiango Odisseo che è così lontano, in realtà ce l'ha davanti, ecco, Livio Andronico invece preferisce di più il pathos, la drammaticità, questo ormai lo abbiamo capito in sostanza, no? Ecco, laerzie nostre, il nostro laerte, ovviamente non è riferito al padre, perché laerte è il padre di Ulisse, che è ancora vivo tra l'altro, ma è appunto il figlio, quindi qui è riferito proprio al figlio, cioè Ulisse, la madre invece non c'è più, è morta, Ulisse lo scopre quando appunto entrerà agli inferi, quando parlerà con le anime, tra le varie anime vedrà appunto proprio quella della madre morta. E ora passiamo ad un altro frammento molto molto famoso, celebre, anche questo, un altro esempio di romanizzazione del testo greco, Nam diva monetas filia docuit, poiché la divina figlia di Mnemosine, o Mnemosine, perdonate l'accento, non conosco il greco, insegnò a loro i canti, ho messo tra parentesi tutto ciò che a testo non c'è, naturalmente. Questo è il frammento 22, famoso, famosissimo, anche questo, come notate immediatamente, ecco che la figlia di Moneta, naturalmente, sarebbe la figlia di Mnemosine, e questa chi è, naturalmente, è la madre delle Muse, un altro esempio di romanizzazione del testo greco, perché qui Livio Andronico che cosa fa? Sostituisce il nome della madre delle Muse, quindi il nome greco con un corrispondente nome latino, quindi interessante, anche qui Moneta, che è la madre, appunto, delle Muse. Ecco, io per farvi capire un pochino meglio poi il contesto, ho inserito una parte più ampia del testo greco, siamo nell'Odissea, libro ottavo, versi 477-481, e possiamo leggere, Araldo, tieni da questa carne perché la mangi ad emodoco, e Dio gli dica, benché addolorato il mio affetto per tutti gli uomini in terra, i cantori sono degni d'onore e rispetto, perché ad essi la musa insegna le trame e ne ama la stirpe. Perdonate l'errore, l'ho visto adesso, qui c'è scritto degni d'onore e rispetto, e vedete che sia qui che qui, ve l'ho comunque messo due volte, il testo greco scrive appunto la parola musa, naturalmente perché le muse sono le ispiratrici dei cantori, di questi aedi, che appunto cantavano, narravano le imprese dei grandi eroi, quindi qui siamo sempre presso il palazzo alla reggia di Alcino, ed è lo stesso Ulisse che sta parlando, sta riflettendo sul valore, sull'importanza dei cantori, degli aedi, e cita appunto la musa, la musa che dà ispirazione poetica naturalmente, però qui Livio Andronico fa un'operazione diversa, anziché scrivere musa o camena come aveva fatto prima, ecco che preferisce scrivere la figlia della dea moneta, in questo caso, cioè la figlia di moneta o la figlia di Mnemosine, o Mnemosine, ecco, cioè cita la madre, e chi era questa Mnemosine? Era una divinità greca della memoria, ed era la, quindi a lei si dava questo potere di ricordare, quindi proprio è la dea della memoria, ed è madre delle nove muse, che qui viene sostituita però da moneta, cioè da moneo, ed è un altro esempio appunto di romanizzazione, il pubblico romano avrebbe meglio compreso il testo, ascoltando il nome di una divinità che già appunto conosceva, e con cui aveva già a che fare in qualche modo, Moneta fu amata, Mnemosine, vabbè fu amata da Zeus in forma di pastore, per nove notti, e appunto un anno dopo nacquero le nove figlie di Zeus e di Moneta, le nove muse, e qui vi ho scritto, ecco, i loro nomi, giusto ricordarne alcuni, soprattutto Talia, ecco, e Calliope, perché li troveremo ancora, poi ce ne sono altre, Polimnia, Tersicore, Euterpe, Erato, Urania, Melpomene, ecco, e Clio, eccetera, insomma, sono queste, ecco, sono le nove figlie di Moneta e di Zeus, ecco, Calliope, poi la troveremo ancora, quindi qui è interessante, perché come per le Camene all'inizio, o Casmene, qui abbiamo Moneta al posto del corrispondente termine greco, quindi anche questo è un verso degno di nota, e poi abbiamo l'ultimo verso, l'ultimo frammento di cui ci occupiamo per Livio Andronico, con questo chiudiamo, l'odusia appunto che abbiamo studiato fino adesso, chiudiamo con il frammento 28, Vestis Pulla Purpure Ampla, ecco, notate subito, sentite, insomma, la letterazione vistosa, si sente, Pulla Purpure Ampla, non soltanto della lettera P, ma anche di questo suono A, che si ripete più volte, per una veste di scura porpora ampia, quindi qui si sta semplicemente descrivendo un vestito, notiamo il corrispondente greco, Odissea 19, 225 e 226, una veste purpurea di lana, aveva il divino Odisseo, doppia, quello che sta parlando è proprio Odisseo, Odisseo in persona, che sta fornendo delle indicazioni, delle informazioni a Penelope, la quale lo sta interrogando proprio sul marito lontano, quindi lo sta interrogando proprio su Ulisse, vuole avere notizie, perché questo mendicante, questo vecchio, giura, insomma, di averlo visto e di averlo conosciuto, quindi gli sta chiedendo delle informazioni, in realtà Ulisse sta parlando di se stesso, lei non l'ha riconosciuto, perché abbiamo già detto che nessuno può riconoscerlo anzitempo, altrimenti probabilmente sarebbe stato ucciso, non avrebbe avuto la sua vendetta, quindi neanche Penelope lo riconosce, quindi è lui che sta fornendo informazioni di se stesso, e quindi lui dice, aveva questa veste di scura porpora, molto ampia, qui dice doppia, ma è interessante, perché qui Livio Andronico ha un verso molto semplice da tradurre, apparentemente, è una semplice descrizione, non c'è niente neanche da pensare, basta tradurla parola per parola, e infatti nel testo greco c'è la parola Kleina, Kleina, che cos'è in greco? È una mantellina pesante che serviva proprio per ripararsi dal freddo, ecco questa Kleina, però il termine corrispondente latino sarebbe Lena, quindi dove c'è scritto Kleina dovremmo trovare Lena, quindi qui sarebbe dovuto esserci Lena pulla purpure ampla, ma non c'è Lena, lo vedete anche voi, c'è vestis, cioè è un termine generico, significa appunto veste, ma una veste può essere di qualsiasi tipo, non è quella mantellina, cioè una mantellina è una cosa specifica, veste può essere una tunica, può essere una camicia, può essere un maglione, può essere qualsiasi cosa, noi che leggiamo, non sapendo niente, potrebbe essere qualsiasi cosa per noi, perché il poeta preferisce tradurre utilizzando un termine generico, non avrebbe potuto inserire Lena, ebbene anche qui è un altro esempio, un'altra testimonianza di romanizzazione molto interessante, e lo vediamo qui, e ve l'ho scritto proprio qui, perché anticamente Lena era anche un'insegna sacerdotale, quindi indicava sia la mantellina, ma anche un elemento religioso, e questo per Livio Andronico avrebbe potuto urtare la suscettibilità religiosa dei romani, cioè si sarebbero potuti offendere, avrebbero sicuramente poco gradito questa mescolanza di sacro e profano, qualcuno di loro avrebbe potuto offendersi, anche pesantemente, e quindi meglio evitare, quindi qui c'è un'autocensura da parte sua, preferisce insomma evitare qualsiasi tipo di polemica, perché chiaramente il processo qui di romanizzazione è richiesto proprio dalle istituzioni latine, cioè dal loro carattere, insomma dal loro modo di fare, di essere, preferisce insomma evitare, meglio non inserire il termine Lena. E' quindi interessante, come vi dicevo prima, la romanizzazione non avviene soltanto con le persone, ma anche con gli oggetti di vario tipo. Noi abbiamo concluso, la prossima volta inizieremo ad analizzare i frammenti tratti dal bellum fenicum di Neonevio, quindi spero che anche questa lezione vi sia piaciuta, che vi abbia offerto spunti di riflessione o che vi possa essere utile anche per il vostro studio. Naturalmente, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, condividete, mi raccomando, queste lezioni anche con altre persone e come sempre vi aspetto alla prossima lezione, questo è il corso di letteratura latina. A presto!